Che senso ha rifare il film quest'anno a Sant'Arcangelo? Perché per me questo qui è proprio l'esempio perfetto, cioè quando noi diciamo site specific cinema oppure cinema di prossimità o cinema fatto con una comunità è esattamente quello che facciamo qua, proprio esatto esatto perfetto. L'anno scorso non c'era stata la possibilità di mostrare almeno la prima parte del film qua al campo perché il campo stava vivendo un momento particolare non potevo ospitare al suo interno degli eventi diciamo. Sì, veniva proprio da una da una lunghissima stagione ma durata dieci anni perché la causa che loro hanno avuto sulla possibilità di essere stanziali però in una in una modalità temporanea qui è andato male, hanno perso la causa come se questo tipo di insediamento fosse alla stessa cosa di un insediamento di tipo edilizio e perciò dovesse rispettare le stesse le stesse caratteristiche e lì abbiamo portato un pezzo del campo in piazza perché una roulotte in piazza Ganganelli aveva all'inizio una parte del film e poi cinema open air e visione pubblica per una sera. Adesso qui al campo è cambiato tutto, cioè è cambiato tutto hanno ricominciato a vivere come prima o forse in un momento ancora più ancora diverso della loro esistenza in questo momento ci sono poche persone al campo degli abitanti sono tutti fuori o in Inghilterra o altrove e per cui c'è una strana pace ecco soprattutto stamattina con gli uccellini che ci guettano.